C'è un'Italia che vuole ripartire. Uno spirito forte che dà i migliori frutti quando tutto è più difficile. Gli italiani, gente che non si arrende. Il gruppo Fidelitas è già pronto con soluzioni per imprese e attività grandi e piccole. Per il controllo degli accessi e delle distanze sociali. Donne, uomini e tecnologie con le quali sappiamo monitorare e gestire entrate, uscite e mitigare il rischio contagio. Noi siamo la vostra sicurezza.